Si sta piano piano avvicinando anche l'isola dei famosi, signori, questo succederà appena finirà il Grande Fratello VIP e prenderà automaticamente il via la nuova edizione dell'isola. La data di inizio è prefissata per il 17 di aprile e stesso palinzesto riservato per il Grande Fratello VIP che finirà il 3 di aprile. Secondo quanto riportano i siti, quelli specializzati che sanno sempre tutto, il reality show condotto da Hilary Blasi andrà in onda per ben 10 puntate. Ad affiancare la conduttrice dell'isola dei famosi 2023 ci sarà ancora una volta Vladimir Luxuria, mentre Nicola Savino, opinionista nell'edizione dello scorso anno, sarà sostituito da Enrico Papi. I due saranno gli opinionisti del reality show e commenteranno le vicende dei naufraghi dallo studio. Anche Alvin è stato confermato come inviato dal programma. Il 45enne tornerà in Honduras per la quinta volta, dopo le esperienze nel 2015, 2016, 2019 e 2022. Il cast dell'Isola dei famosi 2023 è stato svelato e a breve vedremo come andranno le cose in Honduras, dove i naufraghi sbarcheranno proprio il 17 aprile durante la diretta in prima serata. Nel cast dell'Isola dei famosi 2023 troveremo Luca Di Carlo e Nathalie Caldonazzo, Alessandro Cecchi Paone col fidanzato Simone Antolini, le gemelle Serena e Delga Enardu. Il conduttore Marco Predolin. All'Isola dei famosi 2023 sbarcheranno anche l'influencer Gian Maria Sainato, la figlia di Dario Argento, Fiore Argento, l'ex suor Cristina. E ancora Pamela Camassa, Claudia Motta e Elena Prestes, Christopher Leoni, Gianmarco Onestini e gli speaker radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Nois. Tra i nomi anche Samantha De Grenet e il figlio Brando. La showgirl ha voluto pubblicare un video su Instagram e ha commentato la notizia della sua partecipazione al reality show condotto da Ilari Blasi. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha partecipato alla quinta edizione e ha smentito la notizia che era data per certa. Quando continuano a dire che parteciperò all'Isola dei famosi insieme a mio figlio, e la showgirl usa un audio in cui qualcuno dice, basta. La verità, no, non parlo. Ha aggiunto sulla caption Samantha De Grenet.